Professore, la sua lezione verterà sull'opinione pubblica in Italia, qual è il suo giudizio? Il giudizio sull'opinione pubblica è un po' difficile che lo dia io. Noi misuriamo l'opinione pubblica e cerchiamo di interpretarle attraverso le ricerche, di capire quali sono i fattori che sono più in evidenza e che determinano dei cambiamenti profondi. Le opinioni hanno assunto un'importanza rilevantissima nel mondo contemporaneo, non soltanto per le aziende commerciali, basti pensare alle ricerche di mercato, ma soprattutto per le istituzioni, per la politica, per i mezzi di informazione. Avere un'opinione è connaturato all'uomo. Misurare le opinioni è un fenomeno relativamente recente. Attraverso questo mestiere noi cerchiamo di capire i fattori di cambiamento, ma cerchiamo anche di mettere a fuoco quali sono le contraddizioni dei cittadini. Molto spesso le opinioni, che sono sempre più importanti, e sono al centro dei processi decisionali, soprattutto della classe dirigente e delle istituzioni del Paese, ebbene, dicevo, queste opinioni sono basate su delle percezioni, cioè sul fatto che i fenomeni che ci circondano tendono ad essere letti in modo molto soggettivo. E questo porta, in questa fase, a una sorta di distorsione di quella che è la lettura del presente. Basti pensare a un fenomeno di cui si parla costantemente, il fenomeno dei migranti. Ebbene, gli italiani hanno in mente che i migranti presenti nel nostro Paese rappresentino grosso modo, l'ultimo dato, il 25% della popolazione residente in Italia, cioè uno su quattro di chi riceve nel nostro Paese è uno straniero. Non è così, ma è semplicemente per dare l'idea di come, molto spesso, si amplifichi la portata dei fenomeni, soprattutto di quelli che ci preoccupano di più. Pensiamo al tema dell'immigrazione. I migranti, i disoccupati nel nostro Paese rappresentano grosso modo il 12%. Quando noi chiediamo quanti, secondo lei, i disoccupati nel nostro Paese, ci rispondono mediamente il 50%, come se uno su due non avesse il lavoro. E lo stesso fenomeno, per esempio, il tema dell'invecchiamento della popolazione, altro tema cruciale nel nostro Paese. Però le persone di oltre 65 anni rappresentano il 21% della popolazione, cioè un italiano su 5 ha più di 65 anni. Quando noi chiediamo, ma secondo lei, quante sono le persone di più di 65 anni? Si dicono 48%. Allora, capite che in una situazione di questo tipo si amplificano gli allarmi sociali e si moltiplica una preoccupazione, si diffonde una preoccupazione nel Paese che induce un atteggiamento difensivo, di chiusura. Ecco allora che è importante andare alla radice di queste distorsioni. Perché siamo così, come dire, preda delle nostre emozioni o delle nostre percezioni? Da un lato probabilmente perché c'è un problema strutturale. Cioè nel nostro Paese il livello di istruzione è molto contenuto rispetto ad altri Paesi. La percentuale di laureati, ammesso e non concesso che i laureati abbiano piena contezza dei fenomeni di cui abbiamo parlato. Poi c'è un altro aspetto che è stato messo a fuoco da uno psicologo sociale, Daniel Herda, che parla di una sorta di analfabetismo numerico legato a che cosa? Al desiderio di voler, un desiderio inconscio, di voler comunicare la propria preoccupazione rispetto ai fenomeni. Allora si tende ad amplificare, diciamo, a dilatare la portata del fenomeno. E poi però sullo sfondo c'è l'altro tema molto grosso che è la dieta mediatica. Cioè i cittadini come si informano? Ecco allora, leggendo che cosa è cambiato nel nostro Paese negli ultimi anni, abbiamo sicuramente molti elementi per capire perché prevalgono le percezioni sulla realtà. È una informazione di primo livello, molto superficiale e quasi paradossale perché nel corso degli anni si sono moltiplicati i mezzi di informazione. Eppure il cittadino è come se autoselezionasse alcune notizie e al centro c'è la televisione. La televisione che con i telegiornali ovviamente consente di entrare in tutte le case, di far conoscere le notizie del mondo, però per esempio, ritornando al tema dei migranti, se un servizio televisivo dura un minuto e ha, come dire, un filmato in cui si vedono barconi stracolmidi e disperati, è chiaro che tutto ciò induce il tema dell'invasione a cui il nostro Paese è sottoposto. Ecco allora che sono molti questi aspetti e di questo parleremo. Ed ecco però che anche i sondaggi a volte costruiscono insieme ai media opinione pubblica. di due giorni fa la notizia, sondaggio non della sua società, un italiano, un musulmano su tre non vuole integrarsi. Sì, allora, questo è un altro tema, un tema sicuramente molto sensibile, che interpella le società demoscopiche e l'utilizzo dei sondaggi. Ci sono due aspetti importanti. Uno è la costruzione di un sondaggio. Come si fa un sondaggio? Sondaggio è una disciplina estremamente seria, che si avvale di molte discipline, non soltanto la statistica, ovviamente, la metodologia, ma la psicologia. Pensate quanti semiologi ci aiutano nella costruzione di linguaggio, l'analisi del linguaggio, la sociologia e così via. L'altro è il tema della divulgazione dei dati. Allora, fermo restando che dobbiamo credere nella buona fede e nell'etica e nella deontologia delle persone, quindi escludendo situazioni nelle quali magari i sondaggi sono un po', come dire, fatti male, ecco, tendenziosi, diciamo così, il tema vero è che la comunicazione del dato di un sondaggio in realtà diventa decisiva, per cui enfatizzare un aspetto piuttosto che un altro, questo soprattutto nella politica è stato molto frequente anni fa, c'erano leader politici che enfatizzavano solamente i dati a loro favorevole, mentre invece gli aspetti un pochino più deficitari, insomma, gli aspetti di debolezza, i difetti e così via non venivano enfatizzati, ma lasciamo perdere, questo è un malcostume che riguarda più l'Italia che gli altri paesi, però dicevo è cruciale la pubblicazione del sondaggio. Dobbiamo essere tutti consapevoli che c'è una responsabilità sociale nel pubblicare i sondaggi, perché i sondaggi possono modificare le opinioni, nel senso che l'idea stessa di divulgare l'esito di una rilevazione demoscopica su un tema particolare, un tema sensibile come quello a cui faceva riferimento lei, di per sé può portare a cambiare le opinioni, quindi è come se fosse una sorta di profezia che si autoavvera, ecco allora l'appello appunto alla responsabilità sociale, alla consapevolezza che questo mestiere è un mestiere molto serio, che ci aiuta a capire, diciamo, dove va il paese, ma soprattutto ci aiuta a capire quali sono i desideri, i bisogni, le paure delle persone, i loro comportamenti e così via, e quindi non va in qualche modo strumentalizzato. Grazie. Grazie a voi.